Un tempo io avrei detto Ciao a tutti ragazzi qui a Rikis Ma adesso come dovrei fare? Bentrovati amici qui a Rikis e benvenuti in questo secondo vlog Non avrei mai pensato di farlo uno così vicino all'altro Però per una serie di motivi sono arrivato a farlo Oggi ci troviamo qua nella classica location da vlog La volevo cambiare però Per questa volta facciamo ancora qua Come avrete notato all'inizio del video Ho deciso di cambiare nickname Perché alla fine Rikis non mi sembrava più di tanto originale E magari Rikis si dà quel tocco Che a quel nickname precedente mancava Voi continuate a chiamarmi tranquillamente come volete Potete chiamarmi Rik, Rikis Rikis ancora se volete Ma visto che a un certo punto il nickname diventa una parte fondamentale Proprio della presentazione della persona Ho deciso di farlo definitivamente Quindi ecco probabilmente voi vedrete in home Uno che vedete Rikos Io mi sono mai iscritto a questo canale qua E ve lo trovate in home No in realtà sono io Incredibilmente nello scorso vlog mi sono arrivate delle domande Da voi E quindi adesso andremo a leggerle Vi ringrazio tutti di cuore veramente Perché non me l'aspettavo Allora la prima domanda ce la fa Gigi Gigi che ci dice Prossima serie che porterai Allora io avevo intenzione di finito qua Outlast Che ormai sarà verso la fine Io cerco di finire tutto nel prossimo episodio Dovrebbe essere la prossima cosa che porterò Man of Medan Poi dopo una volta che finirò Outlast Non vedo l'ora di fare il best of Dove c'è una compilation di io che prendo spaventi e sono spaventi Viene esso una roba bellissima ecco Man of Medan è comunque un gioco un po' vecchioso Che io in realtà avevo anche visto Però uno non mi ricordo niente Due è un gioco molto vario Quindi si possono fare scelte molto diverse Tra gameplay e gameplay Quindi vedremo un po' come ce lo porteremo dietro noi La seconda domanda ce la fa BlurFanboy Che ci scrive Come mai hai iniziato a fare video su YouTube? Questa domanda veramente l'adoro Grazie perché Tutte le volte mi emoziono quando ne parlo Perché vi racconto C'era un periodo già dal 2013 Molto molto indietro Che io al tempo ero nella vecchia YouTube Italia E vedevo i video di queste persone E a me semplicemente piacevano troppo E anche a me veniva da dire Anch'io voglio farlo E quindi proprio effettivamente Mi sono messo a farlo Con le mie risorse a disposizione Non proprio su YouTube Perché anch'io al tempo Capivo anche se avevo Anche se ero molto piccolo Perché avevo circa Sette anni Otto Però mi mettevo Ecco là con la mia telecamerina Che l'avevo preso Non me l'avevano rivelata I miei genitori per il compleanno Con la mia telecamerina Mi mettevo a registrare Lo schermo del computer E parlavo Sì Dal 2013 Facciamo una cosa Se questo video raggiunge 20 like Mi farò esplorare un po' Del mio passato Mi fece una valanga di video Inutili Perché erano Gapplay non tagliati Su Minecraft Principalmente Infilavo anche qualche Il tuo gioco Però principalmente Era quello Poi dopo dal 2016 Mi venne una malsan idea Ma perché non crearlo Per davvero E lo feci per davvero Creai il mio Primo canale YouTube E mi misi là E iniziai a creare I miei primi video Quindi già dal 2016 Mi misi a caricare Una valanga di video Anche là E Avevo anche dei risultati Niente male Per essere Un bambino Di 10 anni Poi dopo Poi il canale Poi se è una brutta fine E 30 anni Nel 2018 Cioè Mi mettevo a registrare Questi video Che poi effettivamente Non caricavo Ma me li tenevo io Quindi sì Avevo questi Gameplay non montati Che mi tenevo io E le miei computer Poi dopo Io vi voglio annunciare Che a 100 iscritti Ci sarà un video speciale Dove Di ringraziamento Con delle cose ignorate In mezzo È una compilation Dei momenti più belli Del canale In generale Ti ringrazio tutti E Manca poco Manca poco Di questo passo Ci arriveremo Secondo me presto Poi dopo Mi voglio annunciare Una cosa Che è anche il fatto Per cui Mi son dato una borsa A cambiare nickname Perché da qualche mese Ci pensavo Però L'ho sempre lasciato Ecco là E adesso Decido di farlo Definitivamente Questo perché Tra poco Mi metterò A fare Un video Molto particolare Che sarà Il prossimo che uscirà E sarà un video Molto bello Non ve lo spoilerò Però Sono il primo Dico solamente Che sono il primo In Italia A farlo Perciò tenetevi pronti Perché Il lunedì Dovreste vederlo Ho visto che Il video della crossbar challenge È piaciuto davvero tanto E ne sono felice Arrivate a 30 like Perciò chi ha perso La challenge In futuro Dovrà fare L'ice bucket challenge Ah che bello Fare queste cose Anche perché Per questo video Sono stato 8 ore A montare Quasi Tutte le volte Che faccio Un video Più particolare Spogliono Ore su ore Però Per il fruttato Sono soddisfacente E ragazzi Penso che per questo vlog Sia tutto Magari ci vedremo In futuro Con qualche altro video Più particolare Che comunque Adesso mi metto d'accordo Tra circa Due settimane L'ice bucket Ce l'abbiamo Io vi ricordo Di lasciare like Di commentare Ed iscrivervi E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao